Ciao a tutti amici di Tecnologia su Misura.net e benvenuti in questa quarta puntata della serie su come configurare la propria stazione multimediale In questa quarta puntata vedremo come configurare adeguatamente un server SSH per permetterci di salvare e caricare file da un altro computer in modalità remota utilizzando il nostro specifico useremo un computer Windows con Filezilla installato Quindi possiamo subito apprestarci a installare il nostro server e vedremo che sarà un'operazione davvero molto semplice Per installare le applicazioni e programmi da terminale bisognerà utilizzare infatti il comando apt-get Quindi cominciamo a digitare sudo che è la nostra parola chiave per eseguire i comandi da super user Quindi diciamo apt-get install e a questo punto diciamo il nome del programma che vogliamo installare Nel nostro caso open SSH spazio server Premiamo invio E come vedete Sta partendo E' partita l'installazione Ed è già terminata Adesso vi facciamo vedere come controllare il server SSH Quindi nel caso ad esempio lo volessimo fermare dovremmo dire sudo service SSH stop E come vedete SSH stop waiting Quindi abbiamo fermato l'esecuzione del nostro server Per farla ripartire è lo stesso comando Cominciamo a pulire il terminale e quindi diremo Sudo SSH start E come vedete adesso il server SSH è ripartito e ci dà anche l'identificativo del suo processo Per riavviarlo è la stessa operazione soltanto che al posto di start e stop dovremo scrivere restart Adesso prima di spostarci sul terminale Windows per appunto caricare il nostro file multimediale Facciamo l'ultima operazione e lanciamo l'ultimo comando Che sarà molto importante appunto per capire l'indirizzo tramite il cui caricare il nostro file di prova Quindi diamo il comando if config E guardiamo nello specifico l'indirizzo IP che ci permetterà di identificare il nostro computer sulla rete locale Nel nostro caso è questo 192.168.1.133 Questo è appunto l'indirizzo che ha il nostro computer all'interno della nostra rete locale Ora non ci rimane che passare a Windows e provare ad eseguire qualche operazione in modalità remota Ben ritrovati, come potete vedere abbiamo appena acceso il nostro computer Windows E ci apprestiamo a spiegarvi come trasferire i files tra appunto il computer Windows e il computer Linux Per farlo naturalmente vi ricordiamo che le premesse essenziali sono che i due computer siano collegati alla stessa rete Non importa se in Wi-Fi o in Ethernet ma di certo con un collegamento Ethernet avrete un trasferimento dei dati molto superiore E per effettuare questo trasferimento ci baseremo su Filezilla Client Apriamo la pagina web, andate qui sulla pagina Filezilla Project.org e scaricate Filezilla Client Noi naturalmente lo abbiamo già installato e avviato Prima di mostrarvi appunto come effettuare questo trasferimento Apriamo un'istanza da terminale, basterà premere il tasto Windows R per accedere al comando esegui e poi digitare cmd A questo punto scriverete ping 192.168.1.133 che è lo stesso indirizzo che vi abbiamo mostrato prima col comando ifconfig su Linux E questo appunto è l'identificativo che all'interno della nostra rete locale va a identificare il computer Linux Premendo invio noi invieremo dei pacchetti dati e questo ci servirà a capire appunto che il collegamento è possibile Come potete vedere il collegamento essendo tramite cavo Ethernet ha praticamente delle latenze nulle Come vedete infatti il tempo di invio dei pacchetti medio è di 0 millisecondi Quindi è un collegamento pressoché istantaneo Quindi possiamo chiudere E adesso ci apprestiamo a collegarci tramite un protocollo SSH al computer Linux Per farlo clicchiamo qui su file Andiamo su gestore siti Quindi in host andremo a scrivere l'indirizzo che va a identificare il computer Linux In protocollo selezioniamo sftp e ssh file transfer protocol Benissimo, il tipo di accesso va benissimo, normale In nome utente scriviamo l'utente che abbiamo inserito quando abbiamo installato il sistema operativo Linux Quindi nel nostro caso è valeriotsm Nella password inseriremo la stessa password di amministratore Che diamo tutte le volte ad esempio per confermare l'installazione di un programma Quindi nel nostro caso è sempre valerio Premendo su connetti Come potete vedere ci viene chiesta la chiave host del server sconosciuta Quindi dobbiamo confermare in modo da confermare l'attendibilità dell'operazione Premiamo ok E a questo punto siamo all'interno, in questa zona, del file system di Linux Qui potete vedere la cartella home Clicchiamo su valeriotsm Le cartelle precedute del punto sono cartelle nascoste Ma come potete vedere abbiamo la stessa cartella video Dove abbiamo il solito file di prova delle cuffie Corsair A questo punto magari ci interessa, ipotizziamo, trasferire un film Perché no? Noi naturalmente carichiamo, per motivi di copyright, carichiamo sempre un solito filmato di prova Carichiamo un nostro file a caso Qui nella parte di sinistra del programma potete vedere il file system del nostro computer locale Windows Quindi Si, carichiamo questa qui La parte 2 della nostra guida Basterà prenderla e trascinarla E come potete vedere L'invio dei file sta avendo successo Si va tramite un cavo da 100 megabit A circa 12-13 megabyte per secondo di medio Quindi aspettiamo il trasferimento che venga completato E quindi poi torneremo a Linux Come potete vedere Il file è stato caricato con successo Sul nostro computer collegato in remoto Linux E potete vedere appunto la presenza nella cartella video Del secondo video di prova Quindi Prima di chiudere la nostra parte dedicata a Windows Vogliamo anche segnalare che questo sistema non funziona solo per caricare dei file in remoto Ma anche per scaricarli Basterà portarsi all'interno del file system del nostro computer Ad esempio su desktop All'interno di una cartella E quindi selezionare il file che vogliamo scaricare Come ad esempio quello che era presente su Linux E quindi premere il comando scarica Allo stesso modo Come potete vedere si è aperta un'istanza qua sotto Dell'operazione in corso E stiamo appunto scaricando il video Quindi questo è un sistema ottimo Non solo per caricare file multimediali Ad esempio se vogliamo caricare dei film Senza dover macchinosamente collegare cavi Di scollegarli, di sconnettere chiavette USB A disk esterni Ma è un sistema molto comodo Anche magari per caricare interi backup Su un altro dispositivo In modo che i nostri dati Siano il più possibile al sicuro Benissimo Adesso torniamo a Linux Per far vedere che le operazioni che abbiamo eseguite Sono state eseguite con successo Bene ragazzi Eccoci ritornati qui su Linux E come potete vedere il file di prova È appena stato caricato nella nostra cartella video Inoltre possiamo verificare Che automaticamente verrà rilevato Anche dal nostro media center XBMC Apriamo come solito la sezione video Files Video E come vedete abbiamo tutti i nostri due files rilevati Bene Anche con questa quarta parte Sulla configurazione del server SSA che è concluso Non ci rimane che trarre le conclusioni Della nostra configurazione Un saluto a tutti Da Valerio E speriamo che anche questa parte vi sia piaciuta